Tra Maddalena, Aron e Wax viene eliminato. Tra Maddalena, Aron e Wax viene eliminato. Adesso respiri e poi quando ti viene da parlare, parli. Ti volevo dire che al finale ci sono quattro posti, tutto qua Maddalena, tutto qua, capito? Sono solo per quello, è solo esclusivamente per quello. Grazie. 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 Grazie.